Winona Ryder in un ruolo struggente, una cleptomane ossessivo-compulsiva specializzata in furti di motocicli. Ma Anna, ma cosa te ne fai di tutti sti pezzi di moto? Non riesco a fermarmi, è più forte di me. Basta Anna, se ti beccano ti arrestano. Ma guarda che scocca! Sì, ma ti ricordi che fine hanno fatto Toyo Pistone Mario Targa? Anna Carena!